Ciao a tutti ragazzi, bella lì e ben ritrovati sul mio canale. Per chi non mi conoscesse, sono AndrewTheFinalDragoon e sono un youtuber. Attualmente sul mio canale sto portando le video guide di AplugTailInnocence, CapEd e sto facendo anche la Blind Run di Regi, An Ancient Epic. Ecco, mi ci vorrà ancora un po' per finire queste serie, ma è già il caso che io pensi a cosa fare dopo. Ho pensato eventualmente di rifare Selten Sanctuary, Metroidvania che ho amato alla follia. E' fantastico quel gioco, all'epoca lo feci in scarsa qualità. Così come Devil May Cry 4 anche lo feci in scarsa qualità e anche quello stavo valutando di rifarlo. Però vorrei anche portare nuovi giochi, cioè serie che non ho mai fatto sul canale. Così mi viene in mente ad esempio Nexamon Extinction, che è una sorta di Pokémon appunto. Ed è veramente fantastico come gioco, anche a livello narrativo, non solo per i Nexamon che secondo me sono fighissimi. Anzi, alcuni sono anche più fighi dei Pokémon, esteticamente parlando. Dovrei rifare anche Dark Soul, il primo, anche quello l'avevo fatto in scarsa qualità. Insomma, c'è molto da pensare. Devo pensare bene, devo guardare anche nella lista dei giochi che ho in digitali. E a tempo debito appunto valuterò quali serie portare. Solitamente porto due serie contemporaneamente. Quindi eventualmente devo portare magari una serie breve, un gioco corto e un gioco lungo. Perché ad esempio se dovessi iniziare Nexamon e alternarlo a un Devil May Cry 4, non me la cavo più. Non me la cavo più perché comunque Devil May Cry 4 lo porterai come lo feci all'epoca, quindi vi spiegherei bene le combo, il gameplay e tutto nei dettagli. Nexamon è lunghissimo e qualora decidessi di portarlo, di fare completismo, mi ci vorrebbero almeno 80 ore minimo per completarlo tutto. Quindi vediamo un attimo ragazzi. Se vi interessa fate un salto sul canale, appunto, Ander the Final Dragoon e guardate se vi può piacere. Berali, vi tengo aggiornati sulle serie. Berali, vi tengo aggiornati sulle serie.